Ci rivolgiamo a chi ha milioni di contatti con il mondo, a un movimento, una rete, un hacker che abbia a cuore la nostra sopravvivenza e la disfatta di chi la sta mettendo in pericolo. Chi è nato durante la Seconda Guerra Mondiale è cresciuto pensando mai più, mai più una guerra. 50 milioni di morti sembravano aver fatto rinsavire il mondo. Da allora guerra e genocidi non sono mai finiti. Gli ultimi li abbiamo sotto gli occhi. L'avanzata inarrestabile della Nato, l'invasione russa dell'Ucraina, l'atroce attacco di Hamas e la risposta inumana di Israele. Il martirio infinito delle genti di Gaza, stragi, stragi, stragi. Quando vedo la gente mitragliata mentre va a prendere la farina, penso che loro siamo noi. Tutti ci vogliono armati. C'è una fame di guerra che somiglia ai prodromi della Prima Guerra Mondiale e annuncia la terza e veramente ultima. Ho paura. Ho paura. Abbiamo tutti paura. Però ci illudiamo che armandoci ci difenderemo. No. Armandoci ci consegneremo alla guerra, al nemico, alla morte. Abbiamo un sogno. Che qualcuno che abbia i mezzi di comunicazione adeguati a svegliare la terra, parliamo della rete, dichiari uno sciopero mondiale contro la guerra. Per un giorno incrociamo le braccia. Per un giorno non si produce e non si consuma. Se anche il 20% aderisse, anche solo per qualche ora produciamo un danno economico come dieci guerre. Così il mondo si accorgerà che esistiamo. Noi che vogliamo la pace. Perché la pace è la vita. Certo, ogni sciopero ha un costo. Ma niente costa come la guerra. Come questa guerra, che sarà l'ultima.